Una conferenza dibattito sullo sport come valore educativo nelle realtà associazionistiche, cooperativistiche e sportive della città di Arezzo, organizzato dall'Associazione Il Sorriso con il patrocinio del Comune e della provincia di Arezzo, del CONI, della WISP e la collaborazione di All Stars, Ginnastica Falciai, Electra e Pionta. Nella Fattispecie siamo contenti che siano venuti così come per l'incontro sul gioco, docenti di una importanza nazionale e di una certa rilevanza, completamente gratuitamente perché hanno sposato comunque la causa, quindi l'idea. Un'idea che è partita sì dall'Associazione Il Sorriso, che però riesce ad andare avanti grazie alla rete appunto con l'Associazione Nuovamente, con l'Associazione Crescere e soprattutto con il patrocinio della provincia, del Comune, del CONI e della WISP nelle loro sezioni cittadine, aretine. Il 5 marzo ci sarà l'ultima sulla geometria e la matematica applicata ai contesti educativi e ludici e partirà a breve anche un progetto in collaborazione con l'ASL. Per la prima volta accoglieremo un progetto di PIR, quindi un progetto di integrazione riabilitativa per pazienti leggeri di salute mentale. Quindi queste sono un po' tutte le nostre frecce ai nostri nuovi archi. All'incontro dal titolo Sportivamente, lo sport come educazione e integrazione, tra i numerosi interventi, quello del professor Pippo Russo, noto sociologo, saggista e giornalista italiano. Io dico che dobbiamo guardare allo sport come elemento di educazione e di integrazione, questo dice il titolo della conferenza, e sicuramente lo sport è un fattore che favorisce questi due fenomeni. Però al tempo stesso dobbiamo maneggiarlo con cura, perché lo sport può essere un fenomeno che se utilizzato in modo scorretto può essere fortemente diseducativo e dare dei modelli non certo desiderabili dal punto di vista sociale e può essere anche un fattore di segregazione o di esclusione, non certo di integrazione. Grazie.